Sei d'accordo? C'è troppo potere nelle mani di un uomo solo, un uomo solo al comando come Draghi? Io credo che questa sia una lettura ostile al governo, non basata sui fatti, molto ideologica, che dimentica come da quando il governo Draghi si è insediato, la campagna di vaccinazione ha avuto ritmi importanti in Europa, sta proteggendo la maggioranza dei cittadini italiani, siamo arrivati a 600.000 vaccinazioni al giorno secondo paese dopo la Germania in Europa e oggi il nostro primo ministro sta violando in cornovaglia per trovare assieme ai leader del G7 un'intesa per ottimizzare questi risultati e far sì che il G7 porti il vaccino anche ai paesi più poveri in via di sviluppo che non lo hanno. Quindi la realtà l'Italia non solo è stata protagonista di una campagna di vaccinazione di successo battata avanti con grande prudenza dal generale Figliuolo ma anche in un quadro di intesa con gli Stati Uniti e i paesi occidentali che porteranno adesso i vaccini grazie allo stanziamento del governo degli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo. Credo che quindi i risultati da questo punto di vista del nostro paese tanto all'interno dei nostri confini che all'esterno siano sicuramente positivi. Lina Palmerini, sei d'accordo?